Ciao a tutti amici e benvenuti all'interno di questo nuovo video super super utile. In questo appuntamento di Ten Park Orlando News voglio parlarvi di una cosa essenziale per andare ovviamente a Orlando, dato che tanti di voi mi chiedono aiuto per organizzare una vacanza così, quindi un altro passo fondamentale per andare soprattutto in America è avere una buona assicurazione di viaggio, perché nel caso in cui vi ammalate, nel caso in cui vi fate male, nel caso in cui ne avete bisogno dovete essere coperti. Io ringrazio Columbus per aver fatto questo video in collaborazione con me e ci tengo a dire che tutte le cose che andremo a vedere adesso e tutte le cose che dirò sono state confermate prima di tutto da Columbus, quindi ci assicuriamo che tutto sia corretto e soprattutto sia vero. Adesso siamo pronti a parlare di questa assicurazione di viaggio, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti per sopportare il progetto Park World. Adesso sigla e vai! Cosa importante, vi ricordo sempre di leggere le condizioni della polizza che sono già disponibili sul sito di Columbus ancora prima di acquistarle, così a meno evitate spiacevoli inconvenienti. Eccoci tornati amici, quindi siamo pronti per di tutto a parlare di questa assicurazione che è Columbus Assicurazioni è un'assicurazione che io personalmente l'ho testata anche di persona perché ne ho avuto bisogno, quindi posso assicurarvi che loro rispondono sempre un servizio ottimo, ci sono sempre in caso di assistenza, voi potete assicurarvi nel modo in cui volete voi poi ci sono varie tipi, varie tipologie di assicurazioni, potete fare l'assicurazione mensile, un'assicurazione settimanale insomma in base a quanto tempo voi volete assicurarvi e a quanto tempo durerà appunto il vostro viaggio se siete poi dei grandi viaggiatori e viaggiate molto spesso, loro offrono anche la polizza annuale quindi per tutto l'anno siete completamente coperti e hanno ovviamente dei prezzi molto vantaggiosi ma adesso venite con me perché andiamo sul computer, ci spostiamo più nel dettaglio e vi faccio vedere proprio come stipulare una polizza con loro e andiamo a vedere cosa copre ok amici ed eccoci qui sul sito di Columbus raggiuncibile attraverso il link che trovate nella descrizione del canale YouTube infatti vedete che è attivo già il codice sconto che vi permetterà poi di avere il 10% di sconto sulle tariffe quindi appena entrati nel sito ecco qua che compare questa finestrella qui cliccando appunto su questa finestrella vi dà la tipologia di assicurazione che voi volete fare quindi come vi ho detto prima c'è quella basica solo assistenza medica c'è assistenza medica più bagaglio, c'è assistenza medica più bagaglio più cancellazione oppure c'è un annuale multiviaggio adesso io vi faccio vedere quella più completa ovvero assistenza medica più bagaglio più cancellazione quindi noi selezioniamo questo tipo di assicurazione qui poi dobbiamo mettere la nostra destinazione ovvero dove vogliamo essere assicurati se viaggiamo in Italia, se viaggiamo in Europa se viaggiamo nel mondo escluso però USA, Canada e Caraibi quindi in altre parti del mondo tranne in questi tre posti oppure il mondo intero io vi farò vedere il mondo intero quindi noi prendiamo il mondo intero perché come vi ho detto prima ipotizziamo che noi stiamo facendo un'assicurazione come ho fatto io quindi per andare a Orlando quindi noi dobbiamo fare mondo intero qui mettiamo l'inizio quindi dove, insomma, quando abbiamo bisogno di far partire la nostra assicurazione quindi noi ipotizziamo che noi partiamo a settembre quindi mettiamo dal 4 settembre e mettiamo quanto vogliamo far durare questa assicurazione quindi quando noi torniamo quindi staremo via due settimane rientreremo il 18 quindi scadrà il 18 e cosa importante il 18 sta a indicare il rientro alla base perché noi il 17 noi lo faremo di viaggio e dobbiamo anche lì essere coperti e assicurati quindi ufficialmente l'assicurazione termina il 18 che è il giorno in cui noi siamo rientrati a casa assicurarsi infatti dal giorno della partenza fino al rientro al domicilio è una cosa essenziale e deve essere fatta questa è la procedura corretta e la polizza poi, mi raccomando, deve essere acquistata prima della vostra partenza al domicilio in Italia qui poi alla fine mettiamo quante persone vogliamo assicurare se siamo da soli, coppia, famiglia o gruppo quindi assicuriamo una famiglia mettiamo quanti adulti sono in famiglia quanti neonati se ci sono bambini in base all'età degli adulti quindi noi mettiamo due adulti dai 18 ai 64 anni e poi assicuriamo anche facciamo finta un neonato piccolino ne mettiamo uno e assicuriamo anche un bambino dai 3 ai 17 quindi una famiglia due adulti e due bambini clicchiamo poi su fai preventivo ed ecco qua che quindi il sistema ci calcolerà il preventivo quindi vedete che la loro assicurazione per 15 giorni completa costava 177 euro ma con il codice sconto risparmiando il 10% la pagate 159 euro e vi copre covid quindi per quanto riguarda il covid in caso di malattia o contagio cosa importante non in qualsiasi circostanza perché ad esempio se la compagnia aerea mi cancella un volo per colpa del covid ovviamente questo non è coperto dalla polizza per quanto riguarda l'area covid ma è compresa nell'assistenza medica in viaggio o nella copertura per annullamento o interruzione della vacanza assistenza medica covid 19 riempatrio quindi se dovete rientrare alla base per colpa del covid mondo intero numero di viaggi ovviamente è uno solo durata della vacanza è 15 giorni perché è importante loro rispondono solo per coperture per quanto riguarda le vacanze non viaggi di lavoro ma solo per viaggi di piacere servizi di assistenza 24 ore su 24 spese miliche illimitate nel caso in cui il vostro bagaglio poi viene smarrito vi pagano fino a 2000 euro avete fino a 25.000 euro di infortunio in viaggio responsabilità civile 500.000 euro ritardo aereo vi daranno anche 200 euro annullamento del viaggio sono 2000 euro rientro anticipato spesa massima 2000 euro tutela legale 10.000 euro quindi vedete che comunque avete abbastanza coperture c'è quella per quanto riguarda solo questo viaggio 159 euro vedete che se siete dei viaggiatori abituali vi conviene senz'altro l'annuale perché facendo già due assicurazioni così spenderete 320 euro ovviamente l'annuale vi costa solo 241 quindi vi conviene l'annuale se fate più viaggi all'anno però noi selezioniamo questa in questo caso quindi selezioniamo questa qua facciamo su procedi e automaticamente qua poi ci sono le ultime voci da aggiungere quello che io vi consiglio è di applicare soprattutto questa applica zero franchigia con 17 euro in più perché nel caso in cui voi dovete utilizzare l'assicurazione non vi fanno pagare le spese per attivare questa assicurazione che si aggirano attorno ai 100 euro quindi pagando solo in più 17 euro e 56 centesimi voi non pagate proprio più niente anche nel caso in cui vi serva l'assicurazione quindi dovete attivarla poi vedete che comunque loro offrono altre tante altre coperture c'è addirittura potete assicurare lo smartphone se fate degli sport invernali vedete questa opzione protegge per gli incidenti durante la tua attività sciistica o altri sport invernali oppure c'è anche questa con estensione sport scegliendo questa opzione avrai la possibilità di praticare gli sport coperti dalle nostre polizze per sette giorni in totale durante il viaggio per un elenco completo degli sport assicurabili nonché le esclusioni ti preghiamo di consultare l'articolo 10 delle nostre condizioni generali infatti è importante sempre leggere il contratto finale che vi mandano perché lì poi c'è scritto tutto mica che poi dopo eh ma io avevo bisogno è ma non mi hanno risposto invece lì proprio c'è scritto tutto quello che copre e quello che fanno quindi vedete che questo poi è il prezzo finale di 177 euro andando poi su procedi clicchiamo ecco che poi verremo mandati su questa schermata che praticamente sarebbe quella finale qui poi è da compilare il tutto perché qui dovete mettere i vostri dati codice fiscale email l'indirizzo di casa i dati degli assicurati prestare il consenso e poi dopo andare nell'altra pagina dove poi procederete al pagamento metterete poi l'indirizzo email e da lì poi vi arriverà il contratto vi arriverà tutto per email che dovrete poi stampare e portare con voi ed ecco qui amici quindi questo è il loro numero verde perché rispondono sempre per qualsiasi dubbio qualsiasi chiarimento mentre il numero dell'assistenza poi quella da chiamare nel caso in cui avete bisogno della polizia assicurativa disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 ve lo mandano poi tramite email assieme al contratto oppure potete trovare anche il numero della centrale operativa di assistenza medica nella sezione contatti questo poi quindi accedendo a quel link vedete c'è già il codice sconto che vi farà risparmiare il 10% già sulle ottime tariffe che loro offrono quindi Columbus Assicurazioni un'ottima assicurazione soprattutto per i viaggi in America quando viaggiamo per parchi tematici perché sappiamo che in America ci vuole un'ottima assicurazione ma non solo per quanto riguarda il suolo americano ma per il mondo intero quando noi viaggiamo alla scoperta dei nostri amati parchi divertimento e amici ed eccoci arrivati alla fine di questo video Columbus Assicurazioni un'azienda ottima un'azienda che mi sento di consigliarvi io appunto come vi ho detto l'ho provata ne ho avuto bisogno e loro hanno risposto in tempi molto brevi e sono stati davvero davvero molto efficienti quindi mi sento pienamente di consigliarvela perché come sappiamo amici l'organizzazione di un viaggio è una cosa da pianificare step per step è una buona assicurazione viaggio è una cosa da mettere in prima pagina durante la pianificazione di un viaggio quindi in questo caso Columbus Assicurazioni prima di partire ricordatevi di assicurarvi con loro io amici vi saluto ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube se ancora non siete iscritti per sopportare il progetto Parkward grazie mille a tutti e noi ci vediamo al prossimo video ciao io vi ricordo poi come sempre che è una cosa importante leggete sempre le condizioni della polizza che sono già disponibili sul loro sito prima ancora di acquistare la polizza di Columbus perché così a meno evitate poi spiacevoli inconvenienti in futuro grazie mille a tutti